Ciao a tutti, siamo live, spero che sia tutto a posto, devo dire che questa non è la prima diretta che faccio, c'è stato dei problemi tecnici, abbiamo anche cambiato le luci e quant'altro. Bene, vedete già scorrere qui sotto l'argomento di questa live che parla di prevenzione tra virus e batteri, ovviamente nelle aree che ci competono, che mi competono, ovvero tutto quello che riguarda lo sport, fitness e la nutrizione. Intanto se vi collegate ditemi, salutate, mettete un pollicione da qualche parte per farmi capire che ci siete e ditemi anche da che città arrivate, che sport fate, insomma fatevi vedere così vi posso anche salutare. Allora oggi parliamo di questo argomento che perché nasce, intanto perché da un po' che dovevo fare questo video, poi ho detto vabbè, poi magari mi dicono che cavalco l'onda del coronavirus, assolutamente no. anzi devo dire che insomma per chi mi conosce io sono sempre molto attento a stare nel mio settore, grazie Luigi, grazie Claudio, per cercare di far capire alle persone che noi facciamo parte di un ambito molto più ampio che è quello chiaramente del benessere delle persone. Allora è da qui che voglio partire, anche per farvi capire poi cosa vuol dire virus e batteri e perché poi alla fine stiamo parlando in questa pagina di questo, ma capirete che è il nostro argomento ed è fondamentale conoscere le informazioni, io proprio oggi stavo ascoltando un radio molto famoso, insomma Radio 24, se non ci credete ascoltate il podcast e purtroppo c'era questa persona che durante la diretta si è collegata, si è dichiarata medico e ha detto delle cose che non stavano né in cielo né in terra, quindi veramente mi dispiace perché purtroppo ogni professionista, che sia medico, farmacista, biologo o qualunque altra sia professione, si devono basare su evidenze scientifiche, non si devono basare su opinioni, su cose che pensano loro che siano vere e non si devono coprire dal camice di turno se dicono una cosa sbagliata, quindi in questo caso questa persona dichiarava che il coronavirus era stato creato manipolato, in laboratorio, insomma cose che si trovano sui siti delle bufale, gli stessi che parlano delle scie chimiche e quant'altro. Non c'entra niente questa cosa, sono veramente centinaia di virus che esistono, che sono nati, che sono divulgati e così via. È sempre successo e nell'evoluzione dell'uomo succederà sempre. Lasciamo stare questo aspetto che non ci interessa più di tanto. Parliamo di una cosa più importante. Allora, noi stiamo facendo, siamo nelle aree sport fitness e nutrizione, io sono divulgatore scientifico, ho fatto il dottorato di ricerca, ho tante pubblicazioni scientifiche, adesso diciamo che come lavoro già negli ultimi anni sto cercando di portare le informazioni che magari sono nuove, innovative, eccetera. Molti di voi sono atleti, sono allenatori, sono personal trainer, sono farmacisti, sono medici, sono nutrizionisti, sono fisioterapisti, sono preparatori e quant'altro. Bene, tutti quanti però siamo nello stesso, nello stesso globo e quindi comunque ci dobbiamo comportare tutti nello stesso modo. Allora, parliamo di prevenzione, che non sono quelle cose dicendo, no, ma io faccio il preparatore, non mi interessa, no, ma aspetta, io sono personal trainer. No, 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 attenzione ragazzi. La prevenzione, se andate anche sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, andate su quello italiano, l'Istituto Sanitario, sul sito del Ministero della Salute. Allora, la prevenzione è prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Allora, la prevenzione primaria è l'area che competi a chiunque, a chiunque. Non è un aspetto medico, la prevenzione primaria non ha a che fare con i malati, anzi, deve proprio prevenire che le persone vadano in uno stato di malattia, che le persone entrino in un'area che potrebbe portare una malattia, quindi che siano esposti ad un rischio e soprattutto devono cercare, tutte le persone devono cercare di salvaguardare con dei metodi, con degli strumenti, con degli accorgimenti, evitare che le persone entrino in uno stato di malattia e rimangono quindi in prevenzione primaria. Tutti quelli che lavorano nell'area dello sport, del fitness, della prevenzione, devono essere dei professionisti che lavorano nell'area della prevenzione primaria. Questo significa che devono lavorare per creare delle abitudini corrette dagli stili di vita, che il stile di vita, ricordo, sempre sul sito del Ministero della Salute, insomma, se volete andare a controllare, il stile di vita non è mangiare sano, stile di vita non è fare la dieta, stile di vita non è neanche fare solo sport, è l'abbinamento trasporto, quindi attività fisica e nutrizione. Questi sono gli stili di vita, quindi tutti quanti noi dobbiamo essere portatori di questo. Tanto ciao a tutti, Luciano, Riccardo, Enza, Giorgio, molti mi sono passati, ma non Luigi, Luca, Cristina, eccetera, eccetera. Bene, salutatemi, mettete un pollicione da qualche parte perché la diretta di oggi è di quelle che bisogna mantenere. Allora, vediamo queste tre aree che sono il punto di partenza per poi passare a virus e batteri e non è una cosa pallosa, sapete che io vi dico sempre le cose in un modo che sia chiaro, da portarvi a casa gli elementi, in modo che domani mattina chiunque sia, col camice o senza camice, se dite una bagianata, se dice una bagianata, tranquillamente potete dirgli un attimo, la tua opinione oggi non mi interessa, basiamoci su fatti certi. Allora, prevenzione primaria, ripeto, siamo tutti noi che dobbiamo mantenere la prevenzione per noi stessi e ovviamente per chi lavora nel campo dello sport del fitness o nutrizione deve cercare di contribuire, suggerendo alle persone una serie di atteggiamenti, ovviamente sani, che possano prevenire lo stato di malattia, che vuol dire anche evitare l'esposizione al rischio. Allora, il rischio non vuol dire solamente carico batterico o virus che vedremo dopo, no, esposizione al rischio significa anche evitare abitudini che espongano a rischi di diverso tipo. Un atleta che fuma, un atleta che fuma non è coerente, perché chiaramente il fumo non ha niente a che vedere con lo sport, ho fatto tanti video su questo e vi fa vedere che al di là, insomma, di quello che può capitare ai polmoni per una serie di eventi molto gravi, fino ai tumori chiaramente, dei polmoni, però a livello di attività fisica, di quello che ci importa a noi, la fisiologia ci dice che a livello degli alveoli il passaggio tra il, diciamo, la molecola si è bloccato tutto, intanto dovreste, vediamo un attimo se riusciamo a farlo ripartire il video, perché fare solamente il podcast mi sembra limitante, ok, dovremmo riuscirci, dovremmo riuscirci, forse ce la facciamo, ok, ce la dovremmo fare, sì, benissimo, allora, scusate, oggi la giornata è di quelle che non sono fortunate, ok, allora, la riduzione dei fattori di rischio, quando noi parliamo ad esempio di malattie metaboliche, sindrome metabolica, allora è compito nostro, cercare di evitare che per esempio vediamo una persona che solo con la circonferenza addominale è 90, 92, eccetera, sappiate che per quanto riguarda gli uomini, superati 94, è già il primo livello di un fattore di rischio importante, perché se questa circonferenza addominale poi si somma anche ad altri, la circonferenza addominale non abbiamo bisogno di fare analisi, basta un metro da sarta e lo possiamo fare tranquillamente in palestra, perché? Perché la sindrome metabolica è fatta da quel fattore di rischio più altri. Quali sono gli altri? L'ho fatto anche qui dei video, li trovate tutti su YouTube, pressione arteriosa, glicemia a digiuno oltre 100, trigliceridi oltre 150, colesterolo HDL inferiore a 40 o 50 a seconda di siano uomo e donna, e quindi sono questi fattori che si assumeranno. Alcuni di questi ovviamente sono di competenza del medico perché farà fare l'analisi del sangue, ma il primo che è quello, attenzione, perché la sindrome metabolica significa che se c'è il primo allora si sommano anche gli altri. Il primo è la circonferenza addominale che per gli uomini è 94 più centimetri, per le donne 80 centimetri. Quindi attenzione, questo primo controllo lo dobbiamo fare noi, siamo ancora nella prevenzione primaria, non c'è uno stato di malattia e noi lo dobbiamo assolutamente prevenire, questo è compito nostro. Tutte le volte che mi dicono, ah no, ma attenzione, stai parlando di cose del medico. No. Prevenzione primaria significa che stiamo parlando di persone sane, che noi dobbiamo fare di tutto, il possibile e l'impossibile, per evitare che si ammalino, ma soprattutto per evitare che si espongano al rischio. Una persona che è inattiva significa che si sta esponendo a un rischio di inattività e quell'inattività diventerà probabilmente sindrome metabolica, sovrappeso, obesità e magari in futuro diabete tipo 2. Quindi sono io che devo cercare di farlo tornare e ancora sano, di farlo tornare nell'area del benessere, prevenzione primaria. Poi abbiamo la prevenzione secondaria, ahimè, sono persone che sono già entrate in una fase di malattia. Quindi ci sarà stato il medico che avrà diagnosticato una malattia. Però siamo ancora nei fattori, come dire, in uno stato iniziale. Possiamo ancora farlo tornare indietro. Quindi magari siamo in uno stato di prediabete, siamo in uno stato di sindrome metabolica iniziale, magari con solamente 3 dei 5 fattori. Siamo in uno stato tutto sommato di ipertensione. Bene, allora il medico avrà diagnosticato la malattia e sarà compito nostro però fare in modo con quello che possiamo. Siamo nutrizionisti con la nutrizione, siamo preparatori di personal trainer con l'attività fisica. Bene, cercheremo di farli rientrare nei parametri di concerto e con il consiglio del medico per farlo rientrare nella corretta via, quindi riportarle in prevenzione primaria. Poi abbiamo la prevenzione terziaria. È una differenza importante, cioè mentre prima era una malattia al primo stadio, oppure iniziale, oppure solamente così non cronicizzata, nella prevenzione terziaria abbiamo una malattia che è diventata cronica. È irreversibile, quindi per esempio un diabete di tipo 2 conclamato, anche malattie più importanti, anche ad esempio la sclerosi multipla, insomma anche malattie gravi o stati tumorali. Possiamo fare ancora qualcosa? Assolutamente sì. La nutrizione e l'attività fisica sono sempre, dalle evidenze scientifiche, parte fondamentale nella terapia del paziente. Però ci deve essere chiaramente l'indicazione del medico. In quel caso è un malato. Noi possiamo lavorare tanto, devo dire, perché comunque qualunque malato purtroppo avrà necessità, mettiamo il diabete di tipo 2, purtroppo mio padre con quella malattia, devi stare attento a tante cose, perché la nutrizione è fondamentale, l'attività fisica è fondamentale. Invece purtroppo si aggravano le situazioni e facciamo esattamente proprio il contrario di quello che dovremmo fare. Allora il compito nostro stiamo nella prevenzione primaria. Benissimo. Sì, vanno bene anche i TG, non c'è problema. Basta che poi magari in i TG non dicono cose che non hanno niente a che vedere con la realtà. Bene, adesso vediamo quindi all'argomento della serata. Ho preso anche, non vorrei che poi qualche biologo, qualche medico dica, ah mi hai detto. Vabbè, ma io insomma, come tutte le volte cerco di attenermi ai dati e quindi così farò anche oggi. Quando noi facciamo sport, esercizio fisico, eccetera, quindi frequentiamo sempre degli ambienti popolati, popolati da tante persone, quindi una palestra, negli spogliatoi, nelle docce, è una piscina e così via. Allora ho fatto dei video sul sistema immunitario che ti consiglio anche qui di andare a vedere su YouTube perché è molto importante. Cosa può fare l'esercizio fisico per potenziare il sistema immunitario ben sapendo che in certi momenti il sistema immunitario si potenzia con lo sport, in altri momenti no, si è una open window, una finestra dove l'atleta in un certo momento e per un periodo preciso di quel temporale dopo l'allenamento si è esposto maggiormente a un rischio. E qui entriamo a quale rischio? Oggi parliamo di virus e batteri. Tanto nella definizione, devo dire, molte volte anche prima stavo ascoltando un giornalista e ha detto delle cose che in biologia sono diversi. Non per fare il professorone, non mi dovete chiamare professore, ma sono due cose semplici. Allora virus e batteri sono due cose diverse che possono avere una sintomatologia simile, ma hanno un inizio diverso. I batteri sono degli organismi propri, vivono. È una cellula priva di nucleo, quindi fa parte dei prokarioti, non degli eukarioti con il nucleo, ma si può duplicare da sola. E quindi entra all'interno del nostro organismo e può vivere autonomamente e può chiaramente moltiplicarsi. Non tutti i batteri però sono patogeni, anche qui nel video della vitamina D o nel video del sistema immunitario vi ho spiegato che all'interno del nostro microbioma, che è all'interno dell'apparato digerente, tra stomaco e intestino, noi abbiamo circa 38 miliardi di microorganismi di batteri, di piccoli batteri che sono un milionesimo di metro come dimensione, quindi si vedono al microscopio, e esistono. Di questi 38 miliardi più o meno la metà sono patogeni e l'altra metà no. Noi dobbiamo convivere, siamo i nostri commensali, allora questo è importante per noi perché pur se noi entriamo a contatto in ogni momento con i batteri, sia dall'aria che trasmissione per fluidi corporali o trasmissione sessuale o comunque dal cibo, però alcuni di questi batteri non sono patogeni, quindi non comportano nessun problema. Il problema è magari attaccarli indistintamente, quindi magari molte volte io conosco delle persone che diciamo si autocurano e quindi magari c'è un po' di raffreddore e iniziano ad aprire e dire sì sì prendi questo, l'altra volta mi aveva fatto bene, però magari è un antibiotico e vedremo che non c'entra niente l'antibiotico con l'influenza dove invece non è un batterio, è un virus. In quel caso dovrebbe essere un antivirale, non un antibiotico. Ma perché dico questo? Perché purtroppo se il fai da te, anche dal consiglio della nonna, sì sì prendi quella cosa lì, perché magari si pensa che sia efficace, no? Perché in quel caso essendo per esempio un antibiotico distrugge molte volte sia i batteri patogeni sia quelli che invece per noi sono fondamentali nel microbiota, quindi noi per digerire, per assimilare e per proteggerci ovviamente quindi dobbiamo potenziare il nostro sistema immunitario e abbiamo bisogno di questi 38 miliardi di batteri sia di quelli patogeni che di quelli non patogeni e la cosa bella è che se quelli patogeni sono comunque forti e quindi dovremo migliorare anche la nostra nutrizione con dei probiotici che sono importanti, ad esempio l'utilizzo di yogurt, di kefir, ma così come di frutta, verdura e quant'altro, migliora questa flora batterica che è un termine vecchio, ma per far capire la parte buona del microbiota o microbioma, se intendiamo anche la parte genetica. Quindi il batterio ha questa funzione, poi abbiamo il virus, il virus è diverso, il virus è un po' più bastardino perché è più piccolo, non è un miliardesimo di metro, molto molto più piccolo e non si può duplicare da solo, tant'è che un virus fuori da un organismo vivente non sopravvive, quando c'è stata l'allarme di persone che dicevano per il coronavirus che arrivava dei pacchi dalla Cina, ma un virus sopra un foglio di plastica o di cartone non può vivere perché non c'è nessuna cellula che lo può far vivere, per cui finirà la sua corsa in tempi molto rapidi. Invece il virus si trasmette molto più efficacemente per le vie aeree, per le vie aeree, quindi comunque con la trasmissione dell'aria, da persona a persona o da animale a persona. Questo è importante perché siamo nell'area dello sport e del fitness, perfetto, allora noi dobbiamo considerare che nella trasmissione dell'aria, quindi nella espirazione, noi quando facciamo attività fisica abbiamo una moltiplicazione esponenziale del numero di respiri durante il minuto. Fateci caso, noi quando siamo normalmente diciamo in uno stato di riposo abbiamo un certo numero di respiri, quando abbiamo un'attività intensa abbiamo un numero esagerato di respiri con un'aggiunta al vapore acqueo perché in quel momento noi stiamo emettendo tanta acqua e l'abbinamento tra gas espirato e vapore acqueo è un enorme veicolo per la trasmissione anche di virus. Allora chiaramente non è che dobbiamo stare tutti pronti con la mascherina eccetera, però anche l'influenza normale, devo dire che tra le varie situazioni, io ne ho segnate alcune che magari uno non ci pensa, ma anche l'influenza tradizionale è legata a una trasmissione di un virus. Allora se io sono un atleta io devo come dire fare una gara, un allenamento, una mia preparazione e magari il mio compagno di squadra o quel genitore oppure negli spogliatoi quello che ha finito il turno, quel master, quell'amatore, la mamma eccetera, inizia a stanutire, a tossire eccetera, non ha il coronavirus, ma magari ha uno stato influenzale che io in quel momento sono soggetto ad un'esposizione, perché? Perché se io sto per entrare a fare l'allenamento o peggio ancora se l'ho appena finito, se ho appena finito l'allenamento, in quella finestra che sono da 30 minuti a un paio d'ore, sono totalmente attaccabile, totalmente attaccabile da qualunque cosa. Questo è veramente importante, quindi io posso essere attaccato da tantissimi virus e batteri, in quella finestra, quella open window dopo l'allenamento. Quindi possono essere anche stati influenzali normali, sì, ma che magari mettono a letto 3-4 giorni e avrò quella stanchezza, quella febbre, quella situazione anomala, incompatibile con la mia attività, che ovviamente mi farà abbandonare lo sport. Allora, attenzione, non è cercare di tenere a distanza gli appestati, ma vi faccio questo esempio, se ci sono due fazioni, due persone, due bande rivali che si stanno attaccando, una a destra della strada e l'altra a sinistra della strada, e stanno lanciando pietre, si sparano, eccetera. Io ho due cose, cioè ho stato un po' lontano oppure vado in mezzo e lì fotografo. Ecco, se voglio aumentare l'esposizione al rischio farò esattamente la stessa cosa. Se vedo una persona che tossisce, stannotisce, eccetera, nello spogliatoio, sono ancora nella prevenzione primaria, quindi è ancora compito mio, io non sono ammalato, lui probabilmente sì, evitiamo di esporci ad un rischio inutile, perché noi siamo atleti e in quel momento non c'è storia. Noi purtroppo andremo in quella situazione se ci esponiamo al rischio. Anche perché se non abbiamo veicolato meglio una serie di piccole attenzioni, noi purtroppo sui virus, dopo l'allenamento, saremo molto più attaccabili che dai batteri. Questo è importante da portarsi a casa se siete in quest'area sport, fitness e nutrizione. Perché? Perché i virus tendenzialmente attaccano le vie aeree superiori, mentre i batteri tendenzialmente no, perché i batteri arrivano nell'apparato digerente e quindi cercano di passare la membrana dell'apparato digerente e quindi entrare poi nel trematico e direttamente per via sistemica, ma non tanto per le vie aeree superiori. Allora, perché è importante questo? Perché ho fatto un video proprio del sistema immunitario e ho spiegato che l'atleta nell'open window, cioè dopo l'allenamento, ha un calo importante delle immunoglobuline di tipo A, che sono presenti nella mucosa e nella saliva. Quindi in tutta la mucosa, anche delle vie aeree superiori, tendenzialmente, come dire, non abbiamo più le guardie. È per quello che vengono attaccate le vie aeree superiori, perché c'è questa diminuzione. C'è una diminuzione anche dell'enzima l'isozima, che ho detto anche quello nel video, che distrugge la parte della membrana dei batteri patogeni, quindi li disarma, li toglie la corazza, per così dire, per cui li rende abbastanza, come dire, li ha dato un paio di colpi Tyson. Sì, magari non è morto con i batteri, ma insomma non è che sta tanto bene quando poi arriverà nell'apparato digerente. Quindi l'isozima, che è nella saliva, fa già questa funzione. Però purtroppo dopo l'allenamento, anche lì, quella barriera è molto ridotta. Un'altra cosa, anche le cellule natural killer, che sono le prime che entrano e attaccano a prescindere, dopo l'allenamento si è visto che c'è una diminuzione. Quindi tendenzialmente un atleta viene attaccato da virus dalle vie aeree superiori. Quindi è predisposto non al coronavirus, a tutti i virus di tipo influenzale, anche quelli magari più semplici, che dice, vabbè, è una piccola influenza. Eh vabbè, insomma, è una piccola influenza per un atleta che magari deve fare i tempi limiti per i campionati italiani. Non è che sia così tanto importante, così tanto, insomma, da poco. Ci sono anche delle infezioni intestinali che riguardano una trasmissione, però a quel punto è orofecale, quindi non si trasmette tanto nello sport. Certo, se io chiaramente non ho un'igiene quando vado nei bagni, potrebbe anche succedere quello e lì ci sono gastroenteriti e quant'altro. E stiamo parlando quindi dell'area dei virus. Poi entriamo invece dell'area dei batteri. Allora, i virus, mi hanno detto, è molto più importante per gli atleti. Sui batteri un po' di meno. Abbiamo spiegato prima la parte biologica, quindi comunque sono organismi cellulari, diciamo, importanti. I sintomi tra i batteri e i virus sono abbastanza similari, perché quando, mentre inizialmente, per esempio, ok, l'attacco le vie aeree superiori, quindi mal di gola o altro, tendenzialmente più l'area virale, però poi quando arriva a livello sistemico, no, perché si crea un'infiammazione, quindi l'infiammazione produce delle citochine e altre proteine che sono legate alla fase acuta e poi si crea un'infiammazione, delle prostaglandine, che a loro volta attiveranno una serie di, diciamo, di eventi di difesa, ad esempio uno segnale all'ipotalamo che aumenterà la temperatura corporea, quindi darà un segnale di sollevamento della temperatura corporea, proprio perché la temperatura è una delle nostre barriere per cercare di distruggere le cellule. Quali cellule? Quelle virali o quelle batteriche? A quel punto è uguale, perché quando il virus entra nel nostro organismo, la prima cosa che fa è entra dentro una cellula, attacca una cellula, entra dentro una cellula, siccome il virus è formato da DNA o RNA, sostituisce il DNA o l'RNA della cellula nel quale entra, quindi un parassita obbligato, e a quel punto la cellula si duplicherà col DNA di un altro. Vi ricordate nei film di fantascienza del passato, quando ero piccolo andavano per la maggiore, che insomma andavate a letto e sotto di voi c'era questo baccello e durante la notte vi convertiva nell'extraterrestre di turno. Insomma il virus alla fine fa quello, cioè entra nella cellula di un altro e si duplica col suo DNA. Chiaramente fino a distruggere la cellula, quindi si moltiplicherà e distruggerà le cellule, quindi dipende il virus quali cellule va a attaccare, il coronavirus attacca tendenzialmente le cellule del sistema respiratorio, dell'apparato respiratorio, quindi chiaramente attacca, la situazione sarà di quel tipo, ma non tutti i virus attaccano le stesse cellule, bisogna capire quali sono le situazioni. Ma qui siamo già nell'area patologica, diciamo che non ci interessa, è un aspetto medico. Noi dobbiamo evitare di entrare in questo, noi dobbiamo sapere che certe cose possono capitare ed altre no. Quindi ho detto prima, per quanto riguarda, diciamo, se non ho dimenticato altro, mi sembra che ci sia tutto, sì, suggerimenti li diamo alla fine. E poi abbiamo, diciamo, come dire, la sintomatologia è simile, quindi se io devo stare attento in una palestra, in una doccia, in uno spogliatoio, nei miei colleghi, eccetera, ciao Mimmi, ciao Adriano, ciao Alessandra, ciao Salvatore, ciao Andrea, devo stare attento a questi sintomi che io vedo in un'altra persona, io sono ancora sano, quella persona potenzialmente è malata. La sintomatologia è la stessa, molto simile, quindi comunque possono avere stati febbrili, possono avere magari uno stato di spossatezza generale, possono avere eventualmente tosse o altro, io non lo so, non lo sa neanche il medico, se lo guarda una persona immediatamente se quella è un'infezione virale o batterica, perché dovrà fare delle analisi, dà le analisi del sangue e poi salterà fuori qual è poi il tipo di leucocita o linfocita che è prevalente nell'analisi ematochimica e quindi si capirà se è virale o batterica e questo è un aspetto che lasciamo al medico. Noi dobbiamo evitare che succeda. Allora alcune malattie però noi dobbiamo evitare di prenderle. Allora i consigli in questi casi sono, attenzione, portiamoci a casa, l'atleta non è un supereroe, l'atleta si ammala così come qualunque altra persona, soprattutto se a livello di nutrizione non ha fatto tutto il possibile per potenziare il suo microbiota e quindi bilanciare con dei batteri non patogeni la media. Se di questi 38 miliardi di batteri del nostro microbiota, cioè diciamo l'ex flora batterica del nostro intestino, abbiamo un bilanciamento tra quelli patogeni e quelli non patogeni, noi siamo fortissimi e non ci attacca nulla se non veramente molto grave. Il problema invece con i virus abbiamo visto che siamo attaccabilissimi sulle viere superiori dopo la finestra dell'allenamento. Tanto più, questo è importante, l'ho fatto sul video del sistema immunitario, queste cose non succedono alle persone che fanno fitness amatoriale, che fanno la corsetta blanda, che fanno quell'attività diciamo aerobica, vecchio stampo semplice, che stanno sotto il 75% del battito cardiaco massimo, tendenzialmente queste persone non hanno questa finestra delicata dopo l'allenamento. Questa open window non c'è. La open window invece c'è per chi fa attività più intensa, chi fa un'attività oltre il 75% della sua frequenza massima cardiaca, per un periodo di tempo anche prolungato, quindi se uno fa un piccolo scatto, non succede niente, la ricerca scientifica ci dice che questa open window di alcune ore dopo l'allenamento può arrivare se io faccio un esercizio intenso e prolungato, prolungato inteso oltre i 60 minuti, giusto per essere chiari così come ci dicono le ultime review. In quel caso è sicuro che l'atleta può andare incontro a delle infezioni virali. Batteriche un po' di meno, potrebbero essere anche batteriche, però ricordiamoci che la trasmissione di virus su batteri è veicolata da tanto, quindi negli ambienti chiusi la respirazione forzata con tante altre persone, alcune di quelle ammalate, purtroppo è un veicolo importante. Io mi attengo sempre alle aree sport fitness, quindi chiaramente se io vado in metropolitana o altro, stavo attento, anche in quei posti ci mancherebbe tanto più se sono un atleta, però se io ho un sistema immunitario forte, diciamo che in metropolitana sono più protetto, ma anche se ho un sistema immunitario forte e sono un atleta di alto livello che fa allenamenti intensi e non sono protetto, dopo l'allenamento non sono protetto. Quindi mettiamo al caso che io finisco che sono alle 15 il mio allenamento, vado negli spogliatoi e c'ho ancora tutti i muscoli grossi, eccetera, e penso di essere veramente forte, è un figo però peccato che in quel momento magari arrivano gli amatori, il nuoto amatoriale, le persone così, quelle che escono dall'ufficio con la panzetta, quelli che... come stai? Eh io sono lì vicino e in quel momento purtroppo lì devo stare attento. Per cui, ripeto, non è che dobbiamo fare allarmismo, questa cosa capita sempre, lasciamo stare il coronavirus, capita sempre se io voglio mantenermi in salute e sono un atleta che fa attività intensa, devo stare attento solamente nel post allenamento per alcune ore. Quindi il problema più pericoloso è quando sono ancora insieme ad altre persone negli spogliatoi, anche quando vado a casa si usa mezzi pubblici, quando torno a casa no. Per cui se sono a casa il problema non c'è più. Abbiamo un po' detto tutto su questo, vabbè ci sono tutte le eventuali malattie che riguardano diciamo le contaminazioni tra batteri e virus, ma sono malattie che non diciamo, l'importante è capire cosa possiamo fare noi. Le tue informazioni influenzano il benessere, il buon senso, l'attivazione per noi stessi. Allora, Salvatore scusa, non ho letto la domanda, Salvatore Conte, ribadisco ciò che ho detto prima, le tue informazioni influenzano il benessere, il buon senso, l'attivazione per noi stessi. Beh, allora, non ho letto prima, non ti ho visto, è andato via. Rimango nella mia area, io collaboro con tanti altri colleghi dell'area della medicina, della nutrizione, della fisioterapia e quant'altro e quindi chiaramente è importante per me riuscire a lavorare con tante persone che poi ovviamente ognuno di loro avrà un lavoro verso di noi. Adesso si è bloccato il video, la diretta è stata abbastanza lunga, vi ringrazio, riascoltatela perché sono un sacco di informazioni da portarsi a casa. Grazie a tutti e buona serata. Ciao.